Disunic è una start-up torinese che installa dispenser di assorbenti biodegradabili ed ecocompatibili nel rispetto delle persone e dell'ambiente. Oggi è l'8 marzo, facciamo gli auguri alle ragazze e alle donne perché l'8 marzo è tutto l'anno e voi di Disunic avete un progetto che vale 365 giorni. Esatto, io colgo l'occasione davvero per fare gli auguri a tutti. So che è solo una giornata, però probabilmente è una giornata in cui si catalizza l'attenzione di tante tante persone, quindi noi siamo partiti dagli assorbenti per assicurare un'azione in più verso la gender equality. Non fermiamoci e continuiamo con le nostre battaglie.